Buongiorno, buongiorno a tutti, mi ha giusti capelli e questo è veramente un buongiorno perché dobbiamo commentare degli aggiornamenti che in un certo senso vi avevo già annunciato nel video di ieri sera, soprattutto sulla base di quello che era il modello europeo che non lasciava, diciamo, non introduceva una colata gelida diretta maggiormente vista dal modello americano, ma comunque proponeva un assetto che vedeva una risalita altopressoria dell'anticidone dell'Azore fin sopra la Scandinavia, addirittura con una cellula sulle sbalvarde. Questo era un aspetto molto importante perché, se ricordatevi, dipenderà tutto da come il lobo canadese, cioè il centro di massa in questo momento più importante del vortice polare, si sposterà, se più a ovest o più a emest. Sembrava ormai nelle ultime emissioni tutti davano per spacciato perché è NAO positiva, tutto il lobo canadese è molto invadente, però NAO e AOSI, scusate tutte queste, sono indici descrittivi e vanno avanti con i modelli e cambiano anche con le emissioni. Al momento è tutto modificato perché il vortice polare, il suo lobo canadese, si sposta proprio verso il Canada. I modelli vedono una risalita imponente dell'alta pressione dell'Azore verso il mare di Norvegia, ancora più sud della Scandinavia. È una discesa fredda di importanti dimensioni, anche abbastanza duratura, verso l'Europa centro-orientale ma soprattutto verso il Mediterraneo. Guardate qui quelle che vedete, ma proprio concentrate su questa carta, sull'Italia centro-settentrionale ma poi in evoluzione, sono anomalie di temperatura previste dal modello in questo caso americano, ma tutte e due, tra circa una settimana, a 1500 metri di quota e sono valori di 10-12 gradi sotto la media, con nevicate possibili perché ci sarà interazione tra quest'aria fredda e una probabile bassa pressione in formazione nel Mediterraneo stesso. Insomma, se avete capito, queste sono nevicate a bassissima quota, anche pianura, e per certi versi l'ultima emissione del modello americano che è in diretta, sta aggiornando, vede addirittura qualcosa di più simile al Buran, vero e proprio, quindi attenzione a questi aggiornamenti. Me ne hanno detto di tutti i colori, ma non dico che siano definitivi, cambieranno ancora, sicuramente, però c'è questa tendenza, un'apertura dei geopotenziali in Atlantico da parte dell'anticirconia dell'Azoria. Quello che voglio dire, l'apertura dei geopotenziali indica il fatto che la pressione aumenti proprio nel tratto di Atlantico tra Norvegia e Groenlandia, e quello è un punto fondamentale. Ora vi mostrerò cosa sta accadendo e insieme cercheremo di capire perché questa previsione potrebbe non essere tanto improbabile, questa volta. Ieri vi ho detto che alcune emissioni venivano proposte, erano al momento anche improbabili, ma questa non lo è. Guardate il flusso nord-occidentale che c'è ora. La pressione sta aumentando nel Mediterraneo e il nord Italia sarà molto probabilmente sottoposto a un evento di FEM, quindi le temperature aumenteranno momentaneamente anche in maniera significativa in alcune regioni del nord-ovest, ad esempio, ma le cose cambieranno. Vi faccio vedere, questa è la famosa emissione di stamattina del modello americano che, in quella successiva, che sta uscendo, ripeto, è ancora più performante. Se volete le vediamo tutte, ma non c'è poi tantissimo tempo. Guardate, prima fase, ecco l'anticiclone delle azzorre che rimotta. E quindi il tempo migliora da noi, arriva più caldo, tutti diranno, ma vedi, è arrivata la primavera. Allora, attenzione, vedete questa parte celestina tra Scandinavia e Russia occidentale. Questo è un nucleo freddo con temperature fino a meno 40 in quota che dall'Artico spende verso l'Europa orientale. Questa è una fase importantissima perché serve a raffreddare tutto ciò che è a est dell'Italia, a creare il serbatoio freddo. E poi guardate, attenzione a questo gobba arancione, guardate come punta in alto. E dietro c'è un'altra subito pronta a rimontare. Eccola, guardate, quindi il canadese si isola abbastanza verso ovest. L'anticiclone rimonta e qui il nucleo gelido può prendere le mosse verso l'Italia con una bassa pressione mediterranea. Guardate, guardate in basso a destra, qui dove c'è l'Italia, qua non so se si vede il cursore. Anticiclone che va verso la Scandinavia. Freddo che arriva direttamente dalla Russia, dal Kazakhstan addirittura, e punta verso di noi. Poi c'è il ricongiungimento anche nell'Atlantico blocco che si forma a 1050 ectopascal tra Scandinavia e Russia settentrionale. E si continua, guardate, guardate che blocco. Questo è uno stravolgimento delle carte. E poi le carte continuano a mostrare basse pressioni che arrivano dopo l'aria fredda. Questo vuol dire nevicate anche al nord. Probabilmente anche in pianura. Insomma, sta succedendo qualcosa di veramente particolare. E lo vede anche il modello europeo tutto ciò. Ve lo faccio vedere dalle carte. Avrei mille carte da mostrarvi. Sappiate che il modello europeo è molto simile e ve lo faccio vedere subito, anzi. Dai invece dalle carte di dettaglio. Guardiamole un po' tutti insieme. Eccole qua. Questi sono i valori di temperatura del modello europeo a 1500 metri. Scusate. Ecco, ora c'è un temporaneo aumento da ovest e le temperature aumentano. Ancora l'Italia orientale comunque non aumentano più di tanto. C'è un episodio di Fenn, quindi al nord ovest farà caldo. Poi, ecco qua, arriva qualcosa di veramente gerido. La meno 15 sui vicini Balcani, la meno 8, meno 11, scusate, sull'Emilia Romagna. E questa è un'irruzione fredda che è appena agli inizi, perché può continuare. Da tutte le carte mostra che può continuare ancora. E vi faccio vedere poi l'ultima emissione del modello americano. uguale. Guardiamocene tutte che sarebbe veramente da vederle una dopo l'altra. Queste sono per esempio le previsioni delle precipitazioni del modello americano. Guardate, dopo vari giorni arriviamo verso il 5, il 6, il 7. Eccole qua le precipitazioni che arrivano. Eccole. Ed eccole le nevicate. Vedete come iniziano a formarsi le nevicate. Poi, mano a mano che il freddo aumenta, sempre più nevicate anche a quote pianeggianti. Poi si spostano verso il sud. Vanno giù. Guardate in Adriatico, fino alle coste. Eccolo, guardate, questa carta per esempio è da precipitazioni fino alle coste adriatiche, dalla Marche fino alla Puglia. Insomma, tutta una serie di eventi che ancora non ho ben definiti, ma che ci dicono le potenzialità di questo evento. Adesso vi faccio vedere altre carte che ho commentato, ma attenzione che questa è un afflusso gelido, visto nella sua dinamica iniziare a 120 ore, e proseguire per molto tempo che potrebbe davvero essere ragguardevole. Andiamo a vedere ora, con la condivisione dello schermo. Eccolo qua. Allora, questa carta che vi mostro, questa carta è per sabato sera, il prossimo sabato sera. Sono circa 120 ore. Questa è una carta molto importante. Guardate, questa è l'inizio della dinamica che vi ho descritto. Parte tra 4-5 giorni, quindi non parte tra 15. Vedete il primo slancio, numero 1, freccia verso l'alto, prima gobba anticiclonica, seconda da dietro, che isola completamente il lobo canadeso, lo vedete, LC completamente retratto verso il Labrador, e di conseguenza non dà fastidio a noi, l'alta pressione può avanzare fino alla Scandinavia, l'esbalbard è un nucleo gelido, fino a meno 40 in quota scende nell'Europa orientale. Tutto questo non farà altro che il seguito, fare questo, vedete, vi faccio vedere con le frecce rosse, questa proseguirà verso l'alto e qui darà spazio, libererà spazio per poter far affluire il nucleo gelido. Non voglio nominarvi annate particolari, ma sappiate che questa dinamica ha segnato l'inizio di molte grandi ondate di gelo. Non sarà questo il caso, per carità, però potrebbe darci tante soddisfazioni. E queste sono le anomalie di pressione. Guardate, quindi l'aria fredda che arriva da nord-est, questa è per il 7 febbraio, e questa è neve, perché c'è la bassa pressione, c'è l'aria fredda, del blocco, questo è un vero e proprio ponte di Weikhoff, quindi alla fine c'è tutto. Vi faccio vedere, e questi sono gli spaghetti, gli spaghetti del, iniziamo però da Milano, ecco, guardate, guardate come scendono tutti, questo è il modello europeo, Milano, guardate come scendono giù, Milano, questo è il modello americano, Milano, guardate, dopo il fan, scendono di parecchio tutti quanti, la linea bianca è molto al di sotto di quella rossa, questa invece è Roma, guardate, questo è europeo, ve lo mischiate un po', ma è utile, Reggio Calabria europeo, e questo è Roma americano, guardate dove va a finire, ci sono alcuni cluster, alcune missioni di Polova, che arrivano a meno 12, meno 13, a 1500, cioè, quello che voglio dire è che, diciamo, vengono confermate queste carte, anche dalle previsioni, eh, in sembra, di, eh, di, eh, che attestano la validità della stessa emissione ufficiale. Allora, chiudo qui perché voglio aggiornare molte volte oggi, attenzione quindi, ribaltone dei modelli, in parte, se permettete, ve l'avevo annunciato perché, ieri sera, il modello europeo, evidenziava, una tendenza, a un liberare, i geopotenziali in Atlantico, alla risalita dell'alta pressione azione. Se questa tendenza viene confermata, potrebbe esserci una duratura intensa, ondata, gelo, freddo, gelo, comunque, nella, nell'Europa, eh, orientale, poi centrale, nel Mediterraneo. La traiettoria, ovviamente, potrà essere modificata, ma ci sarà occasione per nevigate che veramente potrebbero essere significative in alcune regioni. Andrà con tutto definito, varieranno ancora molto. Questa è una, sono degli aspetti che, hanno, eh, predicibilità difficile, però, tutto inizia al 96-120 ore. Questa volta, forse, c'è qualcosa di più affidabile. Iscrivetevi al canale YouTube, perché me lo merito, e non perdete i prossimi aggiornamenti, tra poco, perché, veramente, ne stanno uscendo delle carte fantastiche. Ciao! Questa volta, c'è qualcosa di più affidabile.